Nasce presso la sede di Brescia un nuovo curriculum della laurea triennale di matematica. L'informatica infatti è la nuova sfida che partirà dal prossimo anno accademico per la sede bresciana, un'opportunità per tutti coloro che intendono affrontare un percorso scientifico e tecnologico. Si tratta di un percorso di studi in informatica nella laurea triennale, precisamente un curriculum nella laurea triennale in matematica. Noi riteniamo che sia un curriculum che completa molto bene l'offerta formativa che già possediamo, perché secondo noi una competenza di base non esageratamente approfondita in matematica, seguita da una moderna e ampia panoramica delle tecniche in informatica, sia molto spendibile sul mondo del lavoro e può aprire la strada a un tipo di laureati dei quali sicuramente c'è bisogno sul territorio. Ci sono dei corsi di base che sono indispensabili per garantire la possibilità ai nostri studenti di proseguire con una laurea magistrale in informatica. Inoltre l'abbiamo caratterizzato con competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro ed in particolare competenze relative alla programmazione, lo sviluppo di applicazioni web e alle tecniche del data mining, che è una disciplina in forte espansione in questo periodo. E proprio in quest'ottica, visto che l'informatica applicata è sempre più multidisciplinare, riteniamo che poter coniugare, come ha detto il Preside, competenze specialistiche in informatica ad una solida preparazione a matematica di base sia un po' l'ottimo, perché di tutte le varie discipline la matematica è un po' il linguaggio comune. Un corso studiato per garantire agli studenti una formazione completa e direttamente spendibile nel mondo del lavoro, creando un collegamento diretto tra mondo universitario e realtà lavorativa. Oggi gli sbocchi lavorativi sono innumerevoli. Io credo che, al di là dell'ambito delle aziende di software, di servizi di informatica, che comunque in questo momento stanno cercando dei nuovi occupati che non trovano, e sempre più crescerà la necessità di competenze all'interno di aziende di altro genere, all'interno di aziende manufatturiere piuttosto che di imprese finanziarie. C'è molto bisogno di risorse specializzate, il problema è che il mercato non le offre molte volte, non le offre a quel livello di specializzazione che servono, ad esempio, nel nostro caso specifico. Però, da quello che vedo io, questo trend di richieste, di skill, competenze e anche capacità poi di imparare e voglia di fare cose molto innovative, noi ricerchiamo in continuazione.